E' durato 35 minuti l'incontro in Vaticano tra Papa Francesco e il Presidente dell'Ucraina Zelensky, i doni di Bergoglio nel segno della pace. Scienza e fede sono parallele e non sovrapponibili, lo ha detto il Cardinale Ravasi, a margine di un incontro a Brindisi dedicato proprio al rapporto tra fede e scienza. Nel distretto giudiziario di Bari, che comprende anche i tribunali di Foggia e Trani, scattato un allarme rosso-rosso sulle infiltrazioni criminali nell'economia. Presentati oggi in questura ad Andria, la sezione speciale della squadra mobile è denominata Falchi, il loro impegno è orientato al contrasto della microcriminalità. La storia di Giovanna Vitobello, la maestra colorata, nata con l'adozione. Ben ritrovati, edizione aggiornata del nostro notiziario. Questa mattina Papa Francesco ha incontrato in Vaticano il Presidente Ucraino Zelensky. Tra i due, oltre al colloquio privato, uno scambio di doni nel segno della pace. Ascoltiamo. È durato 35 minuti, dalle 9.45 alle 10.20 circa, l'incontro che si è tenuto in Vaticano tra Papa Francesco e il Presidente dell'Ucraina Volodomir Zelensky. Dopo un colloquio privato, il Santo Padre ha donato al Zelensky una fusione basso rilievo in bronzo di un fiore che nasce con la scritta La pace è un fiore fragile, mentre il Presidente Ucraino ha regalato al Pontefice un dipinto ad olio raffigurante, il massacro di Buccia, la storia di Maritschka. Vergoglio ha anche offerto il messaggio per la giornata mondiale della pace di quest'anno, documenti papali, il libro sulla stazio Orbis del 27 marzo 2020 e il volume Perseguitati per la verità i greco-cattolici ucraini dietro la cortina di ferro. Prima di incontrare Zelensky, Francesco ha ricevuto in udienza il premier spagnolo Pedro Sanchez che ha portato in dono un cofanetto di monete commemorative coniate in occasione dell'anniversario della morte di Pablo Picasso. Scienza e fede sono parallele e non sovrapponibili, lo ha detto il Cardinale Ravasi a margine di un incontro a Brindisi dedicato proprio al rapporto tra fede e scienza che per l'arcivescovo di Brindisi, Monsignor Intini, devono dialogare. Alba di Pablo. Percorsi paralleli e non sovrapponibili, come fossero due rettilinee che garantiscono visioni della realtà sbirciate da angolature differenti. Sono scienza e fede al centro di un incontro pubblico ospitato a Brindisi e intitolato La religione e l'umanesimo tra scienza e fede. A disquisirne il Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente merito del Pontificio Consiglio della Cultura. La scienza dimostra l'aspetto fenomenico, si dice, cioè ciò che sta nella scena esteriore, mentre filosofia, teologia, arte e così via cercano di scavare nella risposta di senso. Ai nostri giorni però tutto è stato un po' rimesso in discussione attraverso le nuove tecnologie, soprattutto l'intelligenza artificiale, che da un lato può rivelare elementi molto rilevanti dal punto di vista generativo ma anche degenerativo. Le nuove scoperte sono futuro per l'uomo, che così è aiutato a varcare limiti fisici e intellettivi. Ma come si comporta la macchina quando la scelta è vitale? Da qui, secondo Ravasi, l'importanza di far comprendere che è necessario che avvenga sempre un connubio tra arte, scienza, tra umanesimo e tecnologia per riuscire a far uscire dal cuore un canto. Per il Cardinale, l'innamoramento è un canale di conoscenza molto diverso, come lo è quello dell'arte, come quello anche della fede, che assolutamente danno risposte molto più decisive le sue parole. Oggi la fede può dare il suo contributo offrendo un riferimento valoriale alla scienza. Oggi la scienza ha fatto dei grossi passi in avanti, ma non può venire meno il riferimento al bene dell'uomo. Il bene della persona diventa fondamentale per la scienza. La scienza è comunque a servizio della persona, mai contro il bene della persona. Allora questo dialogo, questo è uno dei punti, penso, fondamentali, ma questo dialogo può aiutare poi a far venire fuori altre dimensioni, altri punti di contatto. All'oratorio San Filippo Neri di Andria, nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano, un nuovo campo da calcio. La gioia del parroco Don Sergio Di Nanni in un futuro. Altre novità, i dettagli nel servizio. Un campo sul quale si può giocare a calcio in 7 contro 7, ma anche spogliatoi, segreteria e infermeria. Sono queste le novità dell'oratorio San Filippo Neri, nella parrocchia dedicata a San Giuseppe Artigiano ad Andria. Uno spazio che vuole essere casa che accoglie, scuola che avvia alla vita e cortile per incontrarsi in allegria. Anche per questi motivi è affiliato all'Anspi l'Associazione Nazionale San Paolo Italia, mentre la scuola calcio sul campo è gestita dalla Virtus Andria. I lavori cui hanno partecipato attivamente anche i parrocchiani sono stati finanziati dalla Regione Puglia e dalla Diocesi di Andria, guidata da Monsignor Luigi Mansi. Si tratta di novità importanti dal punto di vista sociale in un quartiere che già da alcuni anni registra la presenza di un grande presidio di legalità, la Questura della BAT, la sesta provincia pugliese. Tutto ciò che tu favorisci, vai ad implementare in un quartiere, diventa un modo, un'attività, perché lì dove non ci fosse questo i ragazzi, le famiglie o altre farebbero altro e andrebbero altrove. La presenza della Questura accanto è una presenza significativa perché noi lo vediamo, per noi che siamo qua c'è una vivibilità maggiore, un presidio maggiore. Te vorrei anche dire una cosa simpatica che la prima partita prenotata è stata proprio quella dei poliziotti. Il desiderio di Don Sergio e della sua comunità è quello di realizzare altri spazi. Abbiamo messo una pietra importante, adesso bisogna continuare ad accogliere questa sfida. Perché comunque il progetto non è finito, dobbiamo potenziare l'offerta sportiva. Io sono fortemente convinto che quando uno spazio diventa accogliente, diventa con più possibilità, è il valore aggiunto sul territorio. Io non ho mai voluto un campo, come dire, mascolinizzato, nel senso che ci fosse solo un campo da calcio e basta. Tutti devono poter avere una possibilità. Per cui l'idea degli altri campi è proprio quello di allargare la proposta con la pala a volo, con altre discipline. Nel distretto giudiziario di Bari, che comprende anche i tribunali di Foggia e Trani, è scattato un allarme rosso sulle infiltrazioni criminali nell'economia. Ne parla il procuratore capo della Repubblica di Trani, Renato Nitti. Ascoltiamo l'intervista di Francesco Rossi. Risale a un anno e mezzo fa o due anni fa uno studio della Banca d'Italia che a livello nazionale ha mappato tutte le regioni d'Italia e, se vogliamo renderla semplicistica, le ha colorate con un colore che si fa via via più rosso quanto più grave la situazione. La situazione del distretto di Bari, distretto giudiziario, quindi dei tre circondari di Bari, Foggia e Trani, è una situazione da rosso rosso. Questo significa che per la Banca d'Italia siamo nel livello massimo di allerta. Questo poi ha una serie di ricadute perché una volta classificato questo territorio, ne discendono una serie di oneri. Le faccio un esempio molto banale. L'antiriciclaggio a cui sono tenuti i professionisti, non solo i professionisti, non è qualcosa di fisso e standardizzato, ma deve tenere conto del contesto in cui uno svolge la propria attività. Quindi i professionisti qui o comunque tutti coloro quali applicano la disciplina antiriciclaggio sono tenuti ad un livello di allerta molto più elevato che non in altre regioni. Ci troviamo di fronte a un territorio, poi ho chiesto alla Banca d'Italia di avere il dato, come dire, esploso per così dire, che riguardi le singole province e siamo al di sopra di tante province, persino della Sicilia da questo punto di vista. È stata presentata oggi in questura ad Andria la sezione speciale della squadra mobile e denominata FALC. Il loro impegno è orientato al contrasto della microcriminalità. Alba Di Palo. Prevenzione e repressione, velocità e trasversalità sono le caratteristiche della neocostituita sezione crimine diffuso della questura di Barletta Andrea Trani, meglio nota come sezione FALC. Si tratta di un'unità alle dirette dipendenze della squadra mobile. Perché questa sezione è importante? Perché fa da connubio tra quella che è l'attività preventiva e quella che è l'attività repressiva. Perché da un lato può lavorare in borghese con servizi di medio e lungo termine per compiere gli arresti e allo stesso tempo essere un punto di riferimento per l'attività preventiva, coordinare quella che è l'azione delle volanti del reparto prevenzione. E poi, come dico sempre, la squadra mobile è ormai abituata da parte investigativa a fare intercettazioni, quindi ad avere tante orecchie. Ecco, ora gli abbiamo dato anche gli occhi. Sono in servizio da poco più di dieci giorni. Hanno effettuato cinque arresti, due ad Andria, due a Barlette e uno a Biceglie. Contrastare scippie e rapine, arginare lo spaccio di droga sono i compiti dei poliziotti che gireranno in moto per le strade dei comuni del Nord Barese impattando su attività criminose particolarmente avvertite dai cittadini. Lavoreranno in sincronia con la squadra volanti. A parte essere un occhio per l'investigatore, ovviamente hanno come principale obiettivo quello di reprimere i reati in atto. No che la volante non lo faccia, però la volante ovviamente ha anche altre incombenze legate alla prevenzione, legate al soccorso pubblico, legate al controllo appunto in generale del territorio. I falchi tutte queste incombenze non ce l'hanno e quindi sono deputati principalmente a intervenire in occasione di reati. La sezione conta ora su sei agenti che potranno essere aumentati in base ai risultati. Più arresti, più performante questo gruppo, più investiremo su di loro e quando arriveranno i nuovi uomini faremo in modo che cresceranno. Quarta edizione ad Andrea del Festival della Legalità. Un'occasione per mettere al centro del dibattito i temi del rispetto della legge e della cittadinanza attiva. Ieri il debutto alla presenza del fratello di Peppino Impastato, Francesco Rossi. La prima forma di rispetto delle regole e della legalità passa dai comportamenti, dalle azioni, dai pensieri e dal linguaggio di ciascuno di noi. Per questo l'amministrazione ha voluto fare un investimento, istituendo in maniera formale con una delibera di giunta quattro anni addietro il festival ma in genere tutti i percorsi legati alla legalità che di anno in anno e di iniziativa in iniziativa vanno sempre più ampliando il ventaglio di collaborazioni. Perché? Perché da più parti, da tutte le parti della comunità vorremmo si sentisse forte l'esigenza di camminare su strade e percorsi di legalità. Quest'anno tra l'altro il tema è legalità organizzata. Ci siamo interrogati su questo. Parliamo sempre, si sente sempre parlare di criminalità organizzata. Noi invece vogliamo essere una comunità che si organizza intorno alla legalità. La testimonianza è fondamentale soprattutto per mantenere una memoria storica perché noi sappiamo benissimo che la memoria è importante. Un paese senza memoria non può mai avere un futuro, diceva Brecht. e noi dobbiamo costruire il nostro futuro. Sono cambiate molte cose. Non possiamo dire che tutto è rimasto come prima, però ancora c'è molto da fare. Perché soprattutto a livello istituzionale bisogna portare avanti l'impegno antimafia non sull'onda dell'emergenza, ma soprattutto sull'onda del progetto, sull'onda della prevenzione. Quello che spesse volte non avviene. Ecco, dobbiamo cercare di rompere il muro dell'omertà perché la mafia è forte, le mafie sono forti perché appunto vivono dal silenzio, dalla paura, dal ricatto della gente e noi dobbiamo lavorare molto in questo senso. Prosegue il nostro viaggio nella TTG di Rimini. Nello stand della Puglia si è parlato dell'intelligenza artificiale applicata al turismo. Puglia che ha anche ricevuto il prestigioso premio di Smart Destination. Il TTG di quest'anno ci dà la possibilità non soltanto di tracciare un bilancio di un anno che a tutti gli effetti segna la ripresa del turismo a livello internazionale, quindi di continuare la riflessione che abbiamo avuto nel post pandemia in un contesto ancora geopolitico molto molto difficile provato dai conflitti che a varia natura stanno riguardando il mercato nazionale e internazionale, ma ci dà la possibilità pure di confrontarci in maniera del tutto aperta rispetto a come il mercato si evolve e si continuerà a evolvere e soprattutto gli strumenti che la nuova tecnologia ci mette a disposizione. Finalmente la discussione sull'intelligenza artificiale è una discussione senza tabù che passa anche attraverso la divulgazione delle migliori progettualità presenti sul mercato e che può dare anche ai cittadini la dimensione di come l'intelligenza artificiale sia uno strumento a supporto dei processi organizzativi piuttosto che per incrementare le performance. Crescita del turismo, degli alberghi e della destinazione. Tra l'altro insieme a colleghi stiamo creando un team di tecnici per poter grazie all'intelligenza artificiale poter utilizzare questi strumenti. Cosa chiediamo? Di non guardare più i dati ormai di presenza ed arrivi alla fine dell'anno come se fosse un po' un budget che si guarda alla fine dell'anno ma andare a intercettare qual è la realtà prima giornalmente. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale sono applicazioni su cui stiamo lavorando da tempo avendo noi dati perché comunque abbiamo più di 20.000 strutture quindi come dicevo non esiste AI senza dati è quella di utilizzare le AI in termini predittivi cioè di andare a capire quanti turisti arriveranno su un dato territorio attraverso due modalità le ricerche e quindi quante persone cercano una destinazione e poi quante di queste persone che cercano una destinazione poi vanno a prenotare. Noi lavoriamo con dei tools di intelligenza artificiale anche ad esempio sulla manutenzione cerchiamo di capire e di prevenire soprattutto quali sono gli interventi di manutenzione oppure migliorare sui PMS l'assignazione delle camere, migliorare la customer journey dei nostri ospiti. E al TTG di Rimini la Puglia ha ottenuto un premio come Smart Destination. Siamo onoratissimi per questo riconoscimento fatto fra l'altro da una società molto importante che proprio su questo tema svolge un lavoro davvero significativo e la Puglia continua a confrontarsi sul tema dei dati, sul tema della Smart Destination sia perché riteniamo che i dati debbano essere quanto più accessibili possibili, quanto più trasparenti possibili e in maniera significativa devono essere sostanzialmente democratici, devono dare l'opportunità a tutti di poter capire quello che succede sul territorio. Anche a Biceglie è stata celebrata la giornata mondiale della vista 2024. Nel nosocomio bicegliese oltre 150 persone hanno ricevuto uno screening gratuito dedicato alle maculopatie, patologia che colpisce la zona centrale della retina. L'eccellenza è possibile anche nelle strutture pubbliche. Francesco Rossi Questa struttura pubblica all'ospedale di Biceglie è cresciuto molto negli ultimi anni e l'offerta sanitaria si è arricchita anche con l'attività dell'oculistica quindi dell'unità operativa di oculistica Biceglie e Trani diretta dal dottor Attimonelli. E oggi in occasione di questa giornata, la giornata mondiale per la vista, abbiamo voluto riproporre questo Open Day, quindi questa giornata dedicata allo screening della vista che già l'anno scorso ha avuto un ottimo successo con la visita di più di 120 persone. Noi siamo orgogliosi non soltanto di ospitare a Biceglie questa giornata, questa manifestazione relativa alla giornata mondiale sulla vista per ribadire ancora una volta l'importanza della prevenzione e come è stato già detto della diagnosi precoce ma anche e soprattutto siamo orgogliosi ancora una volta di registrare la grande professionalità e umanità degli operatori dell'ospedale di Biceglie. La gestione oculata, efficiente è davvero ormai diventata un modello dell'ospedale di Biceglie da parte della nostra direttrice e chiaramente devo ringraziare l'ASL BT, la direttrice generale, per la grande attenzione che dedica a tutti i nostri comi della nostra provincia ma anche e soprattutto a quello di Biceglie sul quale si possono registrare davvero dei successi straordinari. Biceglie è ripartito come ospedale post-covid con una gestione piena di tante attività e servizi che riguardano prevalentemente la gestione delle acuzie quindi nel setting assistenziale più appropriato. L'ospedale di Biceglie però è molto attento anche a quella che è la prevenzione per cui in una giornata come quella di oggi cerchiamo di fare leva sulla popolazione quindi sul territorio generale per evitare che ci siano ricoveri in proprio in ospedale e garantire l'attività invece ospedaliera alle persone che realmente ne hanno necessità. La prevenzione di qualsiasi patologia, in questo caso della maculopatia, è importantissima perché ci permette di partire prima con la terapia, con la terapia delle maculopatie. Si può fare prevenzione anche nelle strutture pubbliche, anzi si deve fare prevenzione nelle strutture pubbliche e noi per fare prevenzione è importante un binomio vincente. Il binomio vincente è l'alta professionalità dei professionisti, dei professionisti medici che devono formarsi perché è importante la formazione, la formazione c'è la dalle università e noi siamo contenti di collaborare con l'università di Bari e con l'università di Chieti ma è molto importante la performance dell'alta tecnologia e noi siamo onorati che questa direzione strategica questa direzione generale ci fornisce degli strumenti altamente performanti come l'Angio CT che utilizzeremo oggi e l'Angio CT è uno strumento che permette di fare tutti gli strati della retina e ci permette di studiare anche quelli che sono i vasi senza iniettare un mezzo di contrasto quindi un esame non invasivo. E si svolge all'Ocro Tondo la prima edizione della Fiera della Biodiversità che si concluderà domenica 13 ottobre. Una vetrina internazionale sulla biodiversità di Puglia, seconda regione bio in Italia secondo l'assessore regionale all'agricoltura Donato Pentassuglia. Il servizio di Damiana Dorotea Sgaramella. Si svolgerà sino al prossimo 13 ottobre la prima edizione della Fiera della Biodiversità a Loco Rotondo in provincia di Bari nel comprensorio di Masseria Ferragnano. In programma ci sono dibattiti, escursioni d'autunno, show cooking con materie prime bio e a chilometro zero, laboratori sensoriali, mostre pomologiche che sono solo alcuni degli ingredienti di un ricco cartellone di iniziative destinate a grandi e piccini. A far da cornice all'evento gli stand gastronomici rigorosamente dedicati ai prodotti locali e espressione di biodiversità. Stiamo lavorando tantissimo, abbiamo recuperato in termini di sensibilità, di credibilità una vetrina internazionale sulla biodiversità pugliese che è la seconda in Italia. stiamo lavorando molto bene con tutta la filiera e il partenariato perché sulla nostra biodiversità stiamo impostando la programmazione e la visione di futuro. Questo significa innovarsi mentre tuteliamo qualità, produzione, germoplasma. Significa lavorare seriamente su quella che è l'attività di costruzione del futuro mantenendo però le radici ben salde in quella che è la nostra biodiversità e quindi i prodotti cardine della nostra filiera agroalimentare. La Regione Puglia, anche grazie al programma di sviluppo rurale, ha realizzato una strategia efficace per la valorizzazione della biodiversità. Siamo in piena attuazione dei progetti integrati dalla biodiversità, che sono progetti che sono finanziati con il PSR, la passata programmazione che però sono ancora in corso, anzi sono nel vivo delle attività e in particolare oggi stiamo raccontando quello che i progetti stanno realizzando in particolare i quattro progetti che riguardano le specie frutticole, l'olivo, la vite e che sono parte di tutti i progetti che la Regione Puglia ha finanziato. In questi quattro progetti noi abbiamo ottenuto anche nella scorsa realizzazione progettuale una marea veramente un'amore importantissima di informazioni, abbiamo molte varietà in conservazione e abbiamo moltissimi elementi che ci possono anche dare indicazioni su come questo germoplasma in conservazione può essere utile per quanto riguarda la rigenerazione dell'agricoltura in determinati territori, anche tenuto conto dei cambiamenti climatici, delle malattie, di tutto quello che oggi siamo abituati ad osservare sulle nostre coltivazioni tradizionali. Quindi un patrimonio di straordinario interesse. L'adozione, l'inclusione e la bellezza della diversità sono questi i temi su cui ruota il racconto di Giovanna Vitobello, la maestra colorata. Questo è il titolo del suo libro scritto pensando ai più piccoli. Antonella Filannino ha raccolto per noi la testimonianza della sua storia di adozione. Sentiamo. La sua vita è cominciata quando ha smesso di aspettare, era in attesa di qualcuno che le prendesse la mano per non abbandonarla mai più. Giovanna aveva circa tre anni quando ha conosciuto i suoi genitori. Antonio e Maddalena partirono per la Colombia per raggiungere l'orfanotrofio che la piccola chiamava casa. Ci prenderemo cura di te, questo le dissero senza parlare. Il tuo primo ricordo è una mano che non volevi lasciare, una mano che volevi trattenere e farla tutta tua? È la mano di mia madre quando i miei genitori sono venuti a prendermi in Colombia. Ormai sono passati 40 anni, però il ricordo è quello che mi porto dietro da sempre. Il giorno in cui loro sono arrivati ero seduta su una poltrona con un vestito forse il doppio di me. Quando li ho visti, insomma, poi si è compiuto tutto. Quell'atto d'amore ha avuto poi la sua più bella conclusione. Bella sua adozione fino ai banchi di scuola di Barletta, dove oggi insegna ai bambini della primaria. Joan Vitobello ha sentito la necessità di consegnare soprattutto ai più piccoli la storia della sua vita. La divisa in capitoli, arricchita da vivaci illustrazioni. Così è nato il suo libro, La maestra colorata, edito Terre Maric. Tra i temi affrontati, l'inclusione e la forza di credere in se stessi. La bellezza dell'unicità. Sentirsi unici nonostante le differenze. Nel mio caso era il colore della pelle, ovviamente. Però sono riuscita comunque a farne, insomma, di questa mia caratteristica una forza. Infatti il libro è dedicato alle farfalle che colorano la mia vita, che sono tutte quelle persone che mi hanno dato quella forza e hanno dato unicità, insomma, a tutto il mio percorso. La definisce nel suo libro Gravidanza di cuore, l'adozione, lo fa attraverso una tenera metafora, così da poterla spiegare anche ai più giovani, anche se l'autrice confessa. Solo quando sono diventata mamma dei miei quattro figli ho compreso davvero la potenza di quel gesto. Quando diventiamo mamme, diciamo, viene quasi naturale, no? Avere il figlio, poi invece per una mamma che decide e veramente aspetta con tanto, tanto tempo, perché i miei genitori hanno deciso di adottarmi quando io non ero ancora al mondo, questa l'idea di avere due persone che ti hanno desiderato in una maniera così forte, poi ti rende unica. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di Teledeon. Grazie per aver guardato il video.